Sono De Gabri del Baule della Nonna e questo è il primo tutorial primaverile con una bellissima stofa a fiori di cotone e noi abbiamo realizzato un runner rettangolare o anche centro rettangolare con sotto dipinto con lo stencil o mascherina un meraviglioso mazzo di fiori con un piccolo uccellino tutto quanto stilizzato ok guardate che meraviglia abbiamo fatto le basi da tutti e due i lati e allora amiche mie iscrivetevi numerose commentate e fatemi la pubblicità ah e non da ultimo mettete mi piace